Dopo i cartelli dei welcome, altri cartelli che indicano i tesori di Savona, questi in collaborazione con Rotary Club. Cosa ci può dire Assessore Benino? Sì, diciamo che Savona si arricchisce di una nuova cartellonistica turistica che mancava e a cui stiamo provvedendo. Tempo dietro abbiamo messo agli ingressi della città dei cartelli di benvenute in molte lingue e sappiamo che sono stati apprezzati dai croceristi e da tutti i turisti, visitatori della nostra città. Adesso in collaborazione con i Rotary abbiamo fatto, abbiamo allestito, abbiamo preparato questi stupendi cartelli che noi andremo a mettere in prossimità dei tesori della nostra città, per esempio Piazza del Duomo, per esempio Via Pia, per esempio Piazza Chabrol e ovviamente anche per il Priamar. Grazie. 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 Grazie.